Allora, prima cosa va messa l'acqua qui nella caldaia e riempirla fino alla valvola, poi va messo il caffè nell'imbuto e poi si deve accendere il gas e aspettare che sia pronto il caffè quando il caffè sale del tutto e poi bisogna avvitare bene la caffettiera ecco, adesso andiamo a vedere, questo è il vapore che esce e questo è il caffè, vediamo se si vede, è il caffè che sta uscendo. Noi, adesso andiamo al cuore, adesso andiamo a vedere, Allora, se è ok, bisogna versarlo nei bicchieri di vetro, se no si rompono. Meglio versarlo o nei bicchierini di plastica o nelle tazzine. Aspettate un attimo che stop un attimo. Come ben vedete il caffè è pronto. E ora non ci resta soltanto che versarlo nella tazzina. Fa riadaggio perché è molto delicata. E' molto scotta tanto. Ecco qua. E ora non resta soltanto. E ora ci dobbiamo mettere lo zucchero. Ora assaggiamo il nostro caffè. Buono, eh? Ebbene, ci vediamo alla prossima.